L'ingresso che vedete alla mia destra è quello di Borgo Egnazia, il resort dei VIP situato a Savelletri di Fasano dove da sabato 30 giugno è in soggiorno la premier Giorgia Meloni. Una sorta di vacanza legata al lavoro perché Borgo Egnazia potrebbe essere anche la location che potrebbe ospitare a giugno 2024 il G7, un sopralluogo quindi della Presidente del Consiglio qui in Puglia. La missione è rigorosamente top secret ma intanto si susseguono dal tardo pomeriggio di sabato le indiscrezioni sull'arrivo in Puglia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che nel weekend visionerà la location di quella che è stata indicata come la principale soluzione per il G7 che si svolgerà a giugno del 2024 nella settimana successiva alle elezioni europee. Nulla per il momento è trapelato sulla sede prescelta, si attende solo il via libera definitivo della premier che ovviamente in quanto padrone di casa per il vertice internazionale del prossimo anno non vuole lasciare nulla al caso e sta accuratamente prendendo visione di tutti i dettagli. In questo weekend pugliese Meloni sarà in compagnia solo di fidati collaboratori, circostanza che rende ancora più complicata la fuga di notizie sulla sede prescelta perché sostanzialmente è verosimile ritenere che la soluzione mostrata in queste ore al Presidente del Consiglio sia proprio quella definitiva, quella che salva eventuali perplessità della premier sarà appunto la sede ufficiale. Anche perché si tratterebbe di un'opzione sulla quale si starebbe lavorando la diverse settimane più precisamente dal giorno stesso dell'annuncio della premier il 20 maggio scorso quando al termine dell'ultimo vertice tenutosi a Hiroshima aveva annunciato che l'edizione del G7 2024 si sarebbe tenuta in Puglia.